Vi ricordate i cartoni animati dagli anni 70? Vi ricordate il topo più veloce del Messico? Era Speedy Gonzales, imprevedibile ed imprendibile. Adesso tornate alla mente. Ricordatevi Ruben Sosa. Non vi sembra lui? Non è perfetto in quel ruolo? Non è stato l'unico vero Speedy Gonzales del nostro calcio. Calcio di punizione per l'Inter. Ruben Sosa trova un gol incredibile. Appacca l'Inter sul settore di destra. È pronto a scattare Bergomi che infatti riceve a grandi falcate. Entra in area di rigore. È pronto il cross. Lo effettua carambo. Nel portiere evita il gol. E poi il colpo di testa vincente di Ruben Sosa. È in tuffo il gol di Ruben Sosa. È sempre l'Inter. Momento favorevole alla squadra nera-azzurra. Ruben Sosa. Gol di Ruben Sosa. Dalla distanza. Sembrava dovesse passare il pallone. Invece si è inventato un tiro dai 18 metri. Bel gol di Ruben Sosa. Palla sul sinistro di Ruben Sosa. Una salta. Gran gol di Ruben Sosa. Bravissimo. Ha girato l'avversario. E poi senza pensarci su. Ha lasciato partire un tiro formidabile. Calcio di punizione. 30 metri. Parte Ruben Sosa che trova l'incrocio dei pali. Che giocatore. Taccalinta e Ruben Sosa. Al centro palla sul sinistro dei 25 metri in rete. La rete di Ruben Sosa. Pallone che accarezza il palo. Gran gol di Ruben Sosa. Sempre l'Inter Ruben Sosa. Gioco di gambe spettacolare di Ruben Sosa. Tra due e tre avversari. Li supera tutti. Supera anche il portiere. Grandissimo gol di Ruben Sosa. Davvero eccezionale. Lo scoppiettante match tra Inter e Parma è fermo sull'1-1. Allo scadere del primo tempo il raddoppio. Ancora una volta lui. Ancora una volta una punizione al fulmicotone di Ruben Sosa. Un calcio di punizione ai 30 metri. Parte Ruben Sosa che trova l'incrocio dei pali. Che giocatore. La Lazio sta bloccando sullo 0-0 l'Inter. Sblocca il risultato la splendida sforbiciata di Ruben Sosa. Possibilità per un cross. Arriva dentro. Ruben Sosa si coordina in sforbiciata. Un gol pazzesco di Ruben Sosa. Il Pescara sta riuscendo ad imbrigliare l'Inter. Per sbloccare il risultato ci vuole lo spunto del campione. Ci vuole il siluro di Ruben Sosa. Punizione per l'Inter. Battuta veloce per Ruben Sosa. Arriva al vertice dell'area di rigore. Ruben Sosa. Fallo all'incrocio. Gol bellissimo di Ruben Sosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.